Vuoi ottenere il massimo dai tuoi profili social? Scegli più business sui social e metti il turbo ai tuoi risultati online. Con il nostro pacchetto avrai Analisi competitor, una strategia mirata di contenuti e storytelling, piano editoriale, gestione quotidiana dei tuoi profili social, interazione con la tua community e gestione delle campagne ADS a pagamento. Contattaci ora e approfitta dell'offerta limitata. Potrai risparmiare fino al 50% sul prezzo di listino. Ricorda, più business sui social, più vantaggi per la tua impresa.